Una circoscrizione che comprende i quartieri Libertà, Monte Pellegrino, ma che vede anche Borgate, quali Borgo Vecchio, quali Via Montalbo, quindi una circoscrizione complessa con diverse esigenze. Sì, una circoscrizione complessa con diverse esigenze che meriterebbe da parte dell'amministrazione comunale una serie di interventi a favore del decentramento, che può essere una parola così detta fine a se stessa, ma il decentramento secondo me significa migliorare la qualità della vita del cittadino con una serie di servizi che si possono delegare alle circoscrizioni, coinvolgendo anche, secondo me, altri uffici della città che non siano per forza comunali, perché quando un cittadino deve andare alla SERIT per chi ha un problema di una cartella magari sbagliata, della TARES, bisognerebbe, dato che abbiamo otto sedi di circoscrizione e la città è abbastanza grande, delegare e coinvolgere le circoscrizioni nel servizio ai cittadini, perché, ripeto, il decentramento è il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, che è quello a cui dovrebbe tendere qualsiasi amministrazione comunale. Il decentramento è una parola importante, ma è però quasi un sogno per il Comune di Palermo. È questo, speriamo che stavolta, dopo anni e anni di soltanto parole vuote, come quelle che pronunciò cinque anni fa l'attuale sindaco in carica Orlando, che promise e sbandierò ai 420 che con la sua consigliatura avrebbe dato finalmente l'autonomia e il decentramento delle circoscrizioni, finalmente con il nuovo sindaco, che io mi auguro essere Fabrizio Ferrandelli, ma che comunque in ogni caso qualsiasi sindaco deleghi alle circoscrizioni, è quello per cui sono nate, perché se vengono lasciate così come sono, sono essenzialmente istituzioni vuote. Quale sarebbe il suo impegno quotidiano qualora fosse eletto alla circoscrizione? Il mio impegno è quello che metto ogni giorno nella mia attività di lavoro, è l'impegno della serietà, dell'impegno, della buona volontà nel risolvere i problemi ai cittadini. Io sono un funzionario dell'Istituto Nazionale di Presidenza Sociale e mi occupo di sportello, per cui so i bisogni della cittadinanza, so i bisogni delle persone e so quanto possa essere un muro di gomma la pubblica amministrazione. Cosa che noi in effetti stiamo cercando di migliorare, per cui la qualità dei servizi è assolutamente essenziale.